Cari amici, un aggiornamento da City Report anche in questo periodo di quarantena, nonostante sia primaverile. Allora, partiamo dalla questione di Via Tofano. In Via Tofano praticamente abbiamo avvisato i consiglieri regionali, quindi Massimiliano Bastoni, consiglieri comunali, Simone Sollazzo e abbiamo informato anche Rosi, Dalisa, comunque il Sunia che c'era stato citato dai cittadini, gli abbiamo mandato il video che poi voi vedete prossimamente sulla questione delle torri abbandonate di Via Tofano, queste due torri di dieci piani che molto probabilmente saranno anche occupate o non occupate, comunque hanno la corrente elettrica attiva, hanno un sacco di rifiuti al piano di sotto, creano un sacco di disagio agli abitanti che ci sono. Stiamo raccogliendo tutte le varie informazioni, da quello che vi possiamo dire a oggi, su risposta del Comune di Milano, da parte di persone del Comune di Milano, quindi l'assessorato e il nostro amico Fabio Galesi che ha intercesso per noi in questa situazione un po' difficoltosa per il coronavirus, ci ha fatto sapere, testualmente ve la leggo sull'altro cellulare, un secondo, ci ha fatto sapere delle notizie che noi non avevamo, credo che non avessero neanche gli abitanti di Via Tofano nel municipio 5, mi hanno fatto sapere che il Comune ha fatto la gara alcuni mesi fa ma è andata deserta, quindi abbiamo reinserito in PTO in due fasi, prima abbattimento e poi ricostruzione, a differenza di prima in cui la gara era stata costruita come abbattimento e ricostruzione in un'unica gara. Ok, questa è la risposta ufficiale, c'è il coronavirus, sicuramente bisognerà aspettare per rispetto dei lavoratori, per rispetto dei malati, dei medici e infermieri che lavorano, ci aspettiamo però di vedere qualche passo in avanti in questa situazione. Ma non finisce qui, mettiamo un fermo a questa situazione di Via Tofano, municipio 7, MM Case e partiamo con un'altra situazione. Io ieri sono stato a fare un giro in diversi autogrill, gli autogrill sono quelle strutture che stanno sulle tangenziali di Milano, anche nelle autostrade, che tendenzialmente servono tutti quelli che viaggiano. In questo momento chi viaggia, secondo voi, viaggiano quelle persone che ci vengono a portare da mangiare e da bere con i camion, i bilici, eccetera, per rifornire i supermercati. Beh, sapete Autogrill cosa ha fatto? Bene, Autogrill ha detto che non potete entrare senza mascherina. Ieri mi sono trovato purtroppo in una situazione dove ho trovato diversi autisti che avevano bisogno per le loro funzioni fisiologiche, la pipì e la cacca per dirla proprio terra a terra, di non poter entrare perché avevano già finito le mascherine che gli erano state dotate dalla loro azienda, perché si sporcano, si consumano, si rompono, eccetera. Quindi, al di là che io abbia potuto distribuire qualche mascherina insieme a molti nostri amici di City Report che erano presenti con noi in questo contesto, cioè, vi pare possibile una cosa del genere? Abbiamo comunicato comunque tutto questo ai consiglieri comunali e anche al Sunia, CGL, eccetera, visto che ne stavamo parlando per la questione di Via Tofano, e quindi abbiamo parlato, o mi sono permesso di parlare anche di questo. Questo è l'aggiornamento in questo momento su alcune situazioni. Ne abbiamo una terza, case popolari. In questo momento solo ALER, però, attenzione, non è detto che non ci sia anche in MM qualcuno che faccia il furbo nonostante ci sia la polizia locale, come dice qualcuno, che è più attiva in questi quartieri, si stanno creando degli assembramenti e in questi assembramenti ci sono addirittura persone che hanno creato dei bar abusivi dove addirittura forniscono bibite fresche, sedie, panchine, e addirittura qualcuno, il caffè, attaccato a un generatore che fa il caffè, appunto con le macchinette Nespresso, quelle che conoscete anche voi. Questo era quello che mi sentivo di dovervi dire. Stiamo arrivando a Pasqua. Speriamo che finita l'emergenza del Covid-19 e finita tutta questa emergenza che c'è intorno di poter prendere provvedimenti in queste situazioni perché comunque in questo momento la situazione del virus ci sta facendo capire ancora di più quante cose non sono andate bene prima quando il periodo era normale e che si massimizzano in questo periodo in cui adesso è un po' così, diciamo un po' così per non dar colpa a nessuno. Va bene, per ora vi saluto, grazie di avermi ascoltato, salutiamo tutto lo staff, i membri della SETI Report, i nostri amici e da Tullio Trapasso un saluto, SETI Report. Seguiteci, non vi molliamo.